All'indomani della sentenza che attribuisce il 30% di colpe ai morti di una palazzina in via Campo di Fossa perché avrebbero avuto il 6 aprile del 2009 un comportamento incauto nel restare in casa senza uscire, le voci di indignazione sono tante. Il primo aspetto è che è paradossale, perché la sentenza sostanzialmente dice che c'è un concorso di colpe perché le vittime, dopo le prime due scosse di quella notte, avrebbero fatto meglio ad uscire. E quindi questo che significa? Che dovevano prevedere in qualche modo la scorsa forte dopo 14 anni che ci hanno detto che i terremoti non si prevedono. Il secondo aspetto è non solo relativo a questa sentenza ma è qualcosa che già abbiamo conosciuto e cioè che lo Stato in generale fa fatica a condannare se stesso e quando lo fa cerca di ridimensionare le responsabilità. E poi l'ultimo aspetto è quello che hai detto. Cioè il rispetto. Io credo che le sentenze si possano scoprire in mille modi. La sentenza non è né un poema né un romanzo e tantomeno una pièce teatrale. A volte le sentenze sono ciniche, però ci deve sempre stare all'interno di questa sentenza non la pietà o il buonismo o peggio la solitarietà un po' pelosa, ma almeno il rispetto. Se si partisse da questo probabilmente queste cose non accadrebbero. Ieri pomeriggio intanto, in modo completamente spontaneo, un presidio di protesta è nato al Parco della Memoria con una buona partecipazione, nonostante la pioggia, ad alimentarlo la professoressa Giussi Pitari, sempre impegnata nelle battaglie che riguardano la città. Siamo qui a poche ore dall'aver letto sui giornali questi titoloni. Eravamo davvero increduli, così increduli che ho detto non possiamo stare fermi. Lo dobbiamo fare innanzitutto per le vittime, perché l'ho detto, io sono fortunata. Ero dentro casa anche io, quindi anch'io voglio il 30% di responsabilità. Ero in casa e non ho detto a nessuno di uscire. E allora questo crea un precedente terribile, ma lo crea in una città che ha sofferto per questo.